Trismoca Il Trismoca Challenge è proprio per educare sempre di più i baristi o contribuire a educare i baristi affinché possano offrire un caffè straordinario tutti i giorni nei loro bar. Il Trismoca Challenge ormai è diventato un appuntamento che ormai da 14 anni si propone in quel di Montichiari a Golosi Italia e per noi è sicuramente una grande soddisfazione perché tutti gli anni contribuiamo a far crescere tantissimi studenti delle scuole alberabili. Il Ghiere Bresciana e il Bergamasca ma soprattutto riusciamo a trasmettere a tanti baristi questa passione, questo amore per questa sostanza nervina che è l'espresso in questo caso di Trismoca naturalmente. E tra i finalisti anche il pluricampione Daniele Ricci tornato qualche giorno fa da Rimini per il campionato nazionale baristi. È stata come tutti gli anni un'esperienza fantastica sia l'anno scorso Montichiari che quest'anno la gara nazionale, sono riuscito a classificarmi al quinto posto, è stata una soddisfazione molto grande. Però adesso sicuramente non voglio fermarmi perché come ho già detto anche a Paolo è bello sentirsi dire che sono giovane e quindi sono già a un buon livello ma voglio fare qualcosa di più, voglio fare quel salto di qualità a cui tanto ambisco. Un appuntamento quello del Trismoca Challenge caro al patrono Uberti che ogni anno prepara assieme ai formatori della scuola di Paratico questi ragazzi affinché possano ottenere il titolo da campione. Oggi proprio qui abbiamo sei dei dodici studenti che assieme a uno dei formatori di Trismoca autorevole perché Andrea Antonelli è quattro volte campione italiano di latte art e una volta campione italiano baristi sicuramente hanno la possibilità di rubare a lui le tecniche per offrire un cappuccino perfetto ma non solo anche un cappuccino col cuore, con la foglia o con altre forme. E in questo momento proprio sono all'opera per prepararsi al meglio anche per le finali del Trismoca Challenge 2017. Come li vedi questi ragazzi? Beh hanno già un'ottima base, vuol dire che sono tutti ragazzi molto giovani che hanno frequentato già dei corsi precedenti, quindi hanno passato una selezione. Hanno già, si vede delle conoscenze di macinatura, di estrazione, di montatura di latte, quindi già anche per me oggi il lavoro è facilitato. Certamente hanno tutti delle buone possibilità, devono solamente capire loro se in gara portare il famoso cappuccino classico con la corona di caffè espresso attorno o se rischiare, è una gara, mi raccomando si può anche rischiare, un disegno in latte art con il free pour. Il rischio paga? A volte sì. Conta più la tecnica o l'estro in questo caso? Conta sicuramente di più la tecnica. Qui si tratta di free pour, è una gara, è una gara fatta da un codice e ci sono 15 minuti, non possiamo inventarci la fantasia. Non è una gara di latte art, è esclusivamente latte art, dove il giudice valuta la fantasia del barista e anche la versata. Il barista deve attenersi a una tecnica di base, deve disegnare qualcosa il più precisamente, il più dettagliatamente possibile e deve riportarlo in tazza che sia ripetuto per quattro, perché quattro sono i giudici. Come sempre saranno 12 partecipanti, 6 studenti e 6 professionisti. Sì, come sempre questa è la ricetta che proponiamo, da sempre a noi piace questa ricetta perché è l'occasione di mettere in mostra le capacità di questi studenti che tutti i giorni studiano a scuola, ma in questo caso hanno seguito in Trismoca delle giornate di formazione, si sono sporcate le mani col nostro caffè e speriamo di avergli trasmesso tante tecniche per far bene nella vita, ma dall'altra parte è il mondo dei professionisti che tutti i giorni si esercita dietro il bancone per offrire il massimo e quindi vedere sia gli studenti che i baristi che in qualche modo si scontrano è sicuramente interessante e stimolante per entrambi. E per quest'anno non mancano le novità in gara. La gara si svolge come sempre, essendo una gara mondiale internazionale, i baristi devono presentare 4 espressi, 4 bevande al latte, 4 cocktail a base caffè non alcolici. Da quest'anno il World Barista Championship ha deciso di sostituire il cappuccino, quindi la seconda bevanda con l'opportunità che il barista presenti una bevanda a base di latte. Quindi il barista può portare il concorrente un cappuccino tradizionale o latte art, oppure inventare una bevanda al latte. Quindi sono sicuro troveremo delle novità sul palcoscenico di Montichiari all'interno di stand di Smoka, perché potremmo vederne delle belle. Grazie per la visione! Grazie per la visione!